Ciao piccoli culi! Ciao piccoli culi! Ma è stato? T'ha posto? Noi siamo sempre qua su Blair Witch Sì, finalmente ci siamo cambiati di vestiti direi Sì, puzzavamo un po' Quindi abbiamo detto... Una settimana che mi portavamo Già Ce ne avevamo lasciati, siamo al quarto episodio mi pare E ce ne avevamo lasciati con un ricordo molto... Ehm... Inquietante Inquietante e molto terroristico Perché siamo tipo in Afghanistan Esatto E quindi... Abbiamo parlato un po' del come mai potrebbe essere stato in Afghanistan Sì, abbiamo un po' fatto due teorie di via di là Però non ci abbiamo ancora capito un cazzo! Esatto Però Bullet è sempre con noi Poi purtroppo ogni volta che capiamo più o meno qualcosa Ne arriva un'altra che stravolge tutto Rimette le cazze Sì, è un fanculo che è È un trip mentale incredibile Ecco, mi ricordo questa scelta Ma aspetta, ma abbandonare vuol dire tante cose? Tipo lasciare andare e tenere lì? Oppure ma non credo l'abbandoni, lo lanci via nel bosco? Infatti perché sta dicendo ora Meno male ci sei te Eh, infatti E' un po' un controsenso Meno male ci sei te Scusa, devo abbandonarti e corri via Ma... Gli ha fatto il papà, tabellino Ah, va bene Eh, è tipo la nonna volta che svegliamo e ci svegliamo in una... Non so se sentite ma Avevo l'attacchi cardia Eh sì Quello... Attacchi di panico e roba male Avello... Il nostro caro... Come si chiama? Ehm... Ellis Ellis Non è proprio il massimo della salute diciamo Ora l'idea secondo noi è cercare il bunker comunque E' vero che il cazzo di bunker non si è più trovato effettivamente Cioè non potremmo... Abbiamo trovato la combinazione Sì, ricordi? Sì 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 Però io non vorrei davvero che fosse una cosa segreta e ce la siamo lasciata scappare perché abbiamo acceso quelle cazzo di luci della macchina Speriamo, speriamo di no Ok Ho sentito... Smugolare Sì No, io proprio di là ci andrei No Abbiamo fatto più grande come... Bullet Bullet Perché cambia dietro? Ah esatto No dai c'è... Mi senti per di là vero? Io non lo so... Merda Che... Cosa? Ah ok Ah... Certo Per me va bene E via Vabbè Tico Mamma mia Bullet è il primo che l'aveva capito Poi c'è queste musiche che si fermano a un certo punto e non so che cosa succede E noi comunque c'è che non ci riposiamo mai Sì noi sveniamo Sì Sveniamo, dormiamo mentre non venuti un po' indietro Siamo abituati a sta cosa Eh vabbè Ok Ma andiamo io vado per... Tu mi sai se è l'unico punto dove posso andare Cani, 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 cani Niente se c'è vai Andiamo, andiamo Addio Ma ogni tanto io vedo... Ma perché lui va di qua poi? Dove sta andando se? Ah forse è questa strada Perché è intelligente Anzi lui è molto curvo Perché è programmato per essere intelligente No No perché veramente qua la gente si perde Oh Musica è un'altra strada di musica Cosa ti ricorda? Non è il... Sochi Somil Guardiamo Somil Ah allora sono strun... No sono dislessico io No, Somil è segheria La regola Sarà quella della compagnia di falegnami della forza indiscutibile Ci sta Fa legnami e statuini di flame Aha, vedi? Quindi la strega in taglia È una carpentiera in realtà Andiamo alla segheria? Andiamo a salvare il giovane Mekinon O a morire È camp A? Che sarà? Pensarà a Michael Bunker? Non lo so Non ne ho idea Effettivamente non ne ho idea Camp A O è una roba militare o è... Il cane si ferma ci fa più strada Bastardo Sei attratto dall'ignoto o dal noto? Dall'ignatissimo Sei un uomo pazzo! Quello non è un binario Vediamo dove porta E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Che sarà questa? Una lettera? Una letterina Questa è una lettera Andiamo O vuoi andare da... No, ora hai preso una direzione e la scegli Cazzo Cicco Vedo l'Andress Cazzo Andress Ok, però prima le diciamo Vabbè Scusa Messaggio vocale Che palle Non posso chiamare direttamente? Non è avanguardista questo telefono Sentiamo la voce che ci ha accompagnato Scusa Che ci ha accompagnato Che uomo orribile Che ci ha accompagnato in macchina Ora Uno Cosa cazzo dovrebbe capire da un messaggio del genere? Proprio a livello di trama del videogioco? Non ne so Nulla A nulla A meno che tu non sia un pazzo come il nostro Io chiamo il mio dottore Ma perché? Ma mai sono le 11.40 di sera credo Lì non ho occupato Non ho occupato Che cazzo chiama le 11.40? Un dottore Vabbè dai Vabbè cazzo duro Tanto non succede mai niente di male sui ponti Ehi Che ci fai che è qua? Vabbè Un po' strano Un ponte di legno Sì Poi hai fatto troppo bene Per essere poco Per essere utile Quello Andrà un po' Peppy is quick Tambor company Che è la compagnia che è stata sciolta E non l'hanno presa benissimo Questo carrello è acceso Non chiedere Sali e vai Non chiedere Cioè elettricità in mezzo al bosco Dopo anche se è stato tutto chiuso E nessuno mi danni Non farti domande Vai Ehi Andiamo Sconfiggiamo i demoni Con i carrelli In stile mani Io voglio vedere dove cazzo sta andando Però mi fa vedere Ti lascia col Non mi fa vedere Non è che potrei andare a destra e sinistra Fai il ponte Ah no vabbè lo mantengo Mi scelgo e poi È giusto È giusto È il cane Ma Oddio che paura Good dog Frena frena Aiuto Hai ucciso qualcosa Non voglio vedere cosa ho fatto Che ho preso Non ho idea Stavi cercando di Ma come diamo Ah ok Ah merda Siamo informati Vabbè Allora ce l'ha scritto Popola persona idiota Che strano Che stiamo ancora tagliando È molto brutta quella baracca Non ispira profiducia effettivamente Allora con questa geggia Noi tiriamo cosa Il tronco Sì Sì esattamente Ok va bene E guardiamo un po' Brazzoliamo nella spazzatura Ah cibo per cani A me la cosa che stupisce È cosa sorprende al nostro carissimo Sì è un po' Un bimbo speciale Sì sì Cogli i dettagli Ma non lo schema generale Che trovaso Uuu Guardiamola subito Dai Si chiama L'uomo che morì Nella casa abbandonata Dopo aver raccolto una cassetta Ah ok c'è il tutorial Mi piace Ma cos'è questo rumore? Ah è bullet sempre Ah c'è questa volta Sì giustamente Quindi non serve che tu guardi direttamente il luogo per farle aprire le cose No No Non è vero Ma sono gli appunti Guintri Ok Ok Robert Quindi non è al carissimo Noi siamo qua You are here Ok Bisogna andare a capare le attrezze Che è lì in alta a sinistra Di a sinistra? No? Quella Maintain's Maintain's shed Quindi è a sud totale Sì Ok Eh 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 S'accesso Siamo maghi Veri Aspetta Teniamolo nel Nel verde Allora Perfetto Ecco tipo anche queste cose Lui non Non è che si fa domande Su E io guardo un video E le cose succedono No no Ah posto Ah ma con pezzo Ok Allora forse prima dobbiamo Cattolico Mi sa dobbiamo trovare i pezzi nel capanno delle attrezze Ah però Noi siamo venuti da qua Siamo arrivati qua Devo andare a sinistra E poi uscire da binaria appena c'è lo spazio bianco Cioè vabbè appena c'è il sentiero Sì Forse Perché probabilmente ci perderemo Perché Ah i demoni E i draghi Ma senti una cosa Non ti dice proprio che tu debba andare in quella direzione Mi ha detto che c'è i Perché c'è anche il campo B da poter vedere Eh ma passare Per far azionare questa cosa qui No 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 Perché te puoi andare indietro E più avanti c'è l'incroscio Vedi Dove Per andare da qualche altra parte Eh ma noi dobbiamo andare di là Non c'è anche le rotaie che proseguono Non te lo ho prescorsa Intanto seguiamo le rotaie Di là Forse c'è qualcosa Matto Io non temo la morte La guardo e gli faccio Morte Non ti temo Matto Che paura Che paura Allora qui Ah lo chissà anch'io Tira la bocca di un diavolo Ah no un barbecue Ah no un genere Ok Io se ti accendo Teddy Non succede un Puttaneva Vabbè la luce ti dovrebbe salvare Ma non vedo Ehi ehi Sì Dove Oh mio dio Io sono puntato però Allora Vai dietro l'albero Cacchio Guardiamo dietro l'albero Ok Bravo Bravo Sinistra 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 Ehi 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 Porchetta Due Sì Fami Ah è perché non me neanche vanno dove vanno in realtà Mi sono perso Mi sono perso con la faccia Cazzo Ah Apprezzano l'albero io Sì infatti si bacano bruttissima Non vedo niente io però Ancora Ancora Dov'è Tra lì In me non ci si c'è 10 A me siamo forti Ah ma li uccidiamo proprio quindi Siamo Ehi Ehi Non facciamo scherzi eh Ho una luce e non ho paura di ridarla Sì quindi non è Non è uno Due o uno Vada È il cane Grazie Ho detto no C'è tradito Quindi Ancora finita La regola Perché pensavo di essere Se ci sono i mostri Guarda la luce Non di che No 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 è il gioco Ma chi è il gioco? Ma siamo scemi? Ma mi sono cagato in mano No ma cos'è Cos'è però? Girati Non è normale Se suono Che che lancia sassi? Madonna mia Ma è inquietantissimo Capitantissimo È dietro È dietro È dietro Dietro? Sì Ma io non voglio girare Io sì ma fa Mi sta facendo cacca Io ti giuro Pensavo fosse alla finestra fuori Dai ma che cazzo Ah sì No io ci vado Prova andare per il di là Segui il suono Ma io vado avanti Segui la luce io Puttana Eva No è di qua Ma cos'è? Destra Destra Ma non vedo un cazzo Zoom Fatti venire Madonna Ma mi arriva nel Nel Non mi fa la forcia Ok Io mi sto cacando addosso Sento i passettini di cose Noi ci abbiamo un coraggio No io Mamma mia Tipo piccolino Sono malati mentali nel giorno Allora aspetta Ok Ma no l'audio così direzionale è una roba atroce Allora pausa Illegibile Perizia psicologica Ci troviamo in una struttura E c'è una perizia Psichiatrica E c'è una perizia psichiatrica sul banco Ci sta Io mi sono bloccato Ok no niente Probabilmente sarà legato a Todd o a Teodoro Ho visto che sono gli unici personaggi Eh di cui possiamo ricavare Forza Cosa mi manca a me Ok Eh potrebbe essere il figlio a sto punto Cioè Todd Cosa cazzo erano quei rumori di sassi Di sassi lanciati ai nostri piedi Che sopra Sì 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 è davvero E allora torniamo indietro Sì Bellamente Senza paura Penso di capire che il bunker non si troverà più No infatti se non erano Ok rimaniamo vicino alla Che non c'è Aspetta cosa intende Non c'è la luce Infatti voleva dire torniamo indietro Forse non lo so C'è un generatore proprio Uuuu Buono E che palle Basta Tristo Allora calma calma Devo guardare anche un po' il cane Ok Ah vedi Oramai ho capito il gioco Minchia Sono un bomber E il cane E il cane che ti indica allora Dicendo Ehi Non so Eh non l'ho visto Direi Di là Di là a sinistra Aspetta il cane indica Di là No vabbè Devi guardare il cane Semplicemente Ma non devi guardare il cane Mi hanno appena Ma Fai qualcosa Mamma mia Non vedo Ancora No Porca troia No La mia volta che moriamo Per l'attaque Allora Oh mio Dio Questo è quello del trailer Non lo Che entra qua dentro Fa così Cazzo Sembra almeno Sembra molto Quello Ci sta che poi Abbiamo preso il Il disegno Non lo so Vabbè a parte Le casupole sono un po' Tutte simili Però vabbè Sì Mi ha ricordato Allora Perizia No Sì Perizia No Lista dei prezzi di ricambio Pezzi di ricambio Ah pezzi Ok Nel 1953 Faccio un bel Gani Cane saccucciò Poi un cerca Cerca vai qua dai Ci sta Te che ne sei a pacchi cane Sì Lecca il legno Non trovi un cazzo Vabbè Peccato Eh prova a girarci Non piace Eh infatti Secondo me Guarda lì nella cassetta C'è anche Bea fuori Ahà Vedi Vai cane Il cane è Un coltellino svizzero Scava Raccoglie Cerca Tutto Tutto Fai qualcosa però Ti odio cane Ah no Ah no Ok Ah ok Pensavo scavasse una buca E entrasse da sotto Tipo talpa Lì ci potevo pensare Scusami Sì Sì Vabbè Vabbè Così fa più figo E fa più Quello è il manometro Il manometro Ok Quindi non è stata inutile Questa cosa No Signori Mentre questo bullet Viene accoccolato Noi vi lasciamo E vi vogliamo bene Non smanetevi nei boschi E fate l'amore Con il sapore Ciao Ciao Puli Non so fare di oltre Ciao 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 Car Grazie a tutti.